Buongiorno a tutti avete riconosciuto il Carlo Martello di Fabrizio De Andrè e Paolo Villaggio se non sbaglio il titolo completo è Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers e la battaglia di Poitiers è una delle due battaglie che faranno da centro al discorso di oggi due battaglie di quelle che si considerano di solito due delle battaglie decisive della storia parleremo poi anche di cosa vuol dire questo concetto chi è inventato e perché questo concetto per cui nella storia ci sarebbero delle battaglie decisive che cambiano la storia del mondo due battaglie che hanno a che fare con i confini con i confini dell'impero romano con i confini della cristianità con i confini dell'Europa e che hanno a che fare soprattutto con la nascita dell'Europa come un luogo con una sua identità politica e culturale precisa perché il punto di partenza è proprio questo noi come dire potremmo dare per scontato che l'Europa sia sempre esistita e d'altra parte se ci informiamo sul concetto di Europa vediamo che i greci e i romani ovviamente usavano il termine Europa però noi noi europei di oggi rischiamo di fraintendere grossolanamente quello che voleva dire l'Europa per i greci e poi per i romani cominciamo dai greci i greci più o meno all'inizio del quinto secolo avanti cristo del grande secolo della cultura classica greca cominciano ad avere dei geografi che fra tante cose che raccontano al loro pubblico spiegano anche com'è fatto grosso modo il mondo primo geografo importante che dà un'idea di com'è fatto il mondo è Ecateo di Mileto che appunto all'inizio del quinto secolo all'epoca delle guerre persiane spiega ai suoi lettori che il mondo ha il Mediterraneo al centro e il Mediterraneo quindi divide il mondo in due parti da una parte l'Europa e dall'altra l'Asia la quale Asia comprende tranquillamente anche tutti quei paesi a sud del Mediterraneo che i greci conoscevano l'Egitto la Libia dopodiché noi sbaglieremmo di grosso se pensassimo che per Ecateo nel momento in cui dice c'è l'Europa da una parte e l'Asia dall'altra lui sottintendesse anche e noi greci siamo europei neanche per idea Mileto è in Asia minore e i greci erano equamente distribuiti da una parte e dall'altra degli stretti e dei mari che dividono i due continenti quindi era un discorso puramente geografico che poi Erodoto come dire migliorerà scoprendo che può essere utile distinguere l'Asia e l'Africa e allora il mondo degli antichi da quel momento in poi sarà diviso in tre parti Europa Asia e Africa ma beninteso appunto ai greci non verrà mai in mente di dire gli europei o peggio ancora noi europei anzi io tendo a pensare che l'enorme importanza che la civiltà greca acquista nell'antichità dipenda proprio dal fatto che i greci sono lì a cavallo fra l'Europa e l'Asia sono piazzati in entrambi i continenti e sono quindi una cerniera perfetta per mettere in contatto le grandi civiltà del Medio Oriente della Mesopotamia dell'Egitto con invece il versante europeo e i Romani anche l'impero romano non è un impero europeo noi anche lì siccome siamo eredi di secoli di eurocentrismo rischiamo di sbagliarci quello è un impero come sapete che va dai confini della Scozia fino ai confini dell'Iran dal Vallo di Adriano fino al Tigri e alle Ufrate ed è un impero che si estende su tre continenti Europa Asia e Africa e non ha un suo particolare legame con nessuno di questi tre continenti certo tecnicamente Roma è in Europa ma questo non significa nulla perché poi l'Europa prosegue a nord oltre i confini dell'impero romano oltre il Reno e il Danubio e questa Europa che prosegue a nord è un mondo del tutto estraneo ai Romani che invece sono perfettamente a casa loro in Egitto o in Nord Africa e questa è una cosa che appunto dobbiamo stare attenti a non dimenticare perché a noi tutto sommato sembra abbastanza naturale pensare al Reno come al centro del mondo e dobbiamo fare un po' di sforzo per renderci conto che per un romano il Reno era un estremo confine del mondo civile un luogo spiacevolissimo e gelido dove un impiegato un funzionario romano preferiva evitare di essere trasferito mentre invece in Egitto uno era perfettamente a casa propria in luoghi civili caldi e totalmente greci e romani da tantissimo tempo. A un certo punto l'impero romano diventa cristiano e anche il cristianesimo non ha niente a che fare con l'Europa. Questa è un'altra cosa che io me ne accorgo parlando nei miei studenti per esempio all'università per noi ci vuole un piccolo sforzo per rendercene conto. Sono tutte cose che sappiamo perché a domanda uno risponde dove è nato il cristianesimo? In quale continente? In Asia certo però che il cristianesimo sia una religione asiatica detto così è già un pochino più difficile da accettare e che il cristianesimo al tempo di Costantino dell'imperatore che ha messo fine alle persecuzioni e ha cristianizzato l'impero romano che il cristianesimo fosse una religione diffusissima in Asia minore in Egitto in Libia in Palestina ovviamente e che in Italia i cristiani fossero abbastanza pochi e che in Gallia o in Spagna non ce ne fossero quasi per niente ancora all'epoca ecco anche quello non è così facile da accettare. D'altra parte invece le elite dirigenti dell'impero romano avevano chiarissima questa cosa che nel loro impero steso spalmato su tre continenti Roma non era il posto ideale per governare era troppo periferica troppo spostata verso la parte quell'europea che tutto sommato era la meno importante la meno ricca la meno popolosa e da Costantino in poi anche la meno cristiana tant'è vero che l'imperatore Costantino decide come sapete di spostare la capitale e trova il posto ideale una città che tecnicamente è ancora in Europa ma basta prendere una barchetta e sei in Asia quello è il nuovo baricentro dell'impero dopodiché dopodiché questo impero romano greco e romano sarebbe ancora meglio dire perché la civiltà di quell'impero affonda le sue radici in Grecia questo impero romano greco e romano cristiano che da un punto di vista geografico non ha nessun legame particolare con nessun continente perché si spalma su pezzi di tre continenti a un certo punto attraversa una fase di crisi quella delle invasioni barbariche che naturalmente non significano la fine dell'impero romano come noi eurocentrici tenderemo a dare per scontato significano la fine dell'impero romano in occidente in Europa però romano come sapete benissimo continua tranquillamente cioè tranquillamente no fra mille problemi continua a vivere per altri mille anni che non sono pochissimi è quello che noi chiamiamo l'impero bizantino e lo chiamiamo l'impero bizantino per il fastidio di dover ammettere che fosse invece un impero romano così orientale balcanico medio orientale i romani siamo noi quelli chiamiamoli in un altro modo i bizantini con il risultato che poi i miei studenti fanno un po' fatica a capire chi sono questi bizantini da dove viene questo popolo ecco allora le invasioni barbariche sono davvero un punto di partenza per ritagliare nel mondo greco romano uno spazio che si chiama Europa e che ha un destino diverso dal resto del mondo antico e le invasioni barbariche cominciano con la battaglia di adrianopoli cominciano con una crisi di confine siamo sul confine orientale dell'impero romano in Europa il danubio questi confini dell'impero romano noi siamo abituati a considerarli così per una vecchia immagine tradizionale come dei confini fortificati il limes una re muri e torri e legionari di guardia sempre in attesa di vedere se arrivano i barbari pronti a respingerli in realtà non era assolutamente così l'impero romano non aveva troppa paura dei barbari e non era rinserrato dentro le proprie mura col terrore che potessero arrivare l'impero romano sapeva benissimo certo che l'enorme mondo dei barbari al di là del confine era un mondo irrequieto da dove ogni tanto arrivavano razziatori saccheggiatori faceva parte delle cose all'ordine del mondo e non era facile impedirle non era neanche così importante se i saccheggi continuavano troppo prima o poi l'imperatore prendeva la cosa in mano entrava lui nel paese dei barbari ammazzava saccheggiava bruciava portava via il bestiame finché i barbari non arrivavano in ginocchio a chiedere pietà e per un po si stava di nuovo tranquilli confine dell'impero romano era un confine poroso perché i romani stessi lo passavano quando volevano i romani non concepivano il loro confine come qualcosa per cui gli altri stanno fuori e noi stiamo dentro semmai gli altri stanno fuori quando noi non li vogliamo lasciare entrare noi usciamo quando vogliamo l'imperatore romano è il padrone del mondo e se decide di andare con le truppe nel barbaricum per qualunque motivo lo fa senza bisogno di pretesti legali non riconosce nessuna legittimità a nessun potere al di fuori dell'impero e quanto al far entrare gente facciamo entrare gente certo perché no ne abbiamo bisogno continuamente l'impero romano per secoli ha bisogno di mano d'opera non in modo sistematico ma l'impero romano è un impero di squilibri ci sono zone sovrappopolate magari e altre zone invece dove la gente manca ci sono momenti dove la popolazione cresce e altri in cui arrivano per esempio epidemie che devastano intere regioni il vaiolo al tempo di marco aurelio per esempio allora quando in una regione c'è bisogno di mano d'opera la soluzione è la facciamo venire da fuori ci sono barbari che chiedono di entrare perché crepano di fame a casa loro hanno avuto la carestia sono stati aggrediti da altri barbari noi li facciamo entrare certo impero romano per secoli in particolare da marco aurelio in poi fa continuamente entrare barbari a condizioni precise decidiamo noi cosa vi facciamo fare vi mettiamo a lavorare lavorare alla terra i latifondisti hanno sempre bisogno di coloni di mano d'opera i giovanotti li arruoliamo nell'esercito diventeranno soldati romani tutti quanti presto diventerete romani una generazione due una volta che abbiate perduto come dire gli aspetti più vistosi del vostro essere barbari diventerete romani anche voi questa è la prassi normale e l'ideologia ufficiale dell'impero romano per secoli certo i barbari parliamo dei barbari del nord dei germani che vengono dall'europa settentrionale i germani i goti la loro integrazione non è facile all'inizio c'è sempre qualcosina che li marca sono alti biondi si vede benissimo che sono una razza inferiore e di conseguenza per un po vengono presi in giro ma una volta che si sono integrati pienamente non sono più presi in giro anzi semmai gli si dice vedi voi siete proprio la prova che insomma essere barbari o romani è solo questione di testa ecco i corpi possono essere diversi ma chi vuole essere romano lo può diventare ed è per questo che quando nel 376 dopo cristo alla frontiera romana del danubio si presentano non singoli gruppi ma intere tribù quasi un intero popolo di barbari che vivono al di là della frontiera e chiedono di poter entrare la cosa non presenta niente di particolarmente strano nuovo questi barbari sono i goti che vivono nelle grandi pianure appunto nelle steppe a nord del danubio nell'attuale romania e ucraina e sono gente che i romani conoscono benissimo sono secoli che coesistono con loro è una coesistenza a volte difficile i goti spesso dichiarano guerra all'impero romano saccheggiano entrano in generale vengono poi sconfitti ributtati indietro quando sono troppo turbolenti sono i romani che per primi entrano nel loro paese a impartire una lezione costantino aveva fatto addirittura costruire un ponte sul danubio cosa non facilissima neanche per i romani all'unico scopo di poter andare dai goti a reprimerli quando ce n'era bisogno dopodiché quando i goti erano tranquilli si commerciava si mandavano missionari ormai siamo nel quarto secolo l'impero è cristiano e anche i goti si stanno convertendo al cristianesimo e quando c'era bisogno di mercenari si assumevano capi goti che arrivavano con qualche migliaio di guerrieri ben pagati dall'impero romano per combattere al servizio dell'impero gente conosciuta e tutto sommato innocua ora all'improvviso una gran folla di questi goti si presenta alla frontiera del danubio chiedendo accoglienza nell'impero e raccontano raccontano che sono stati aggrediti da altri barbari molto più barbari di loro tanto che i goti che pure sono guerrieri coraggiosi di fronte a questi altri barbari non ce l'hanno fatta tutti i principi goti che hanno provato a resistere sono stati spazzati via e quindi ormai gran parte delle tribù gotiche hanno abbandonato le loro case hanno caricato la poca roba sui carri e si sono messi in movimento con le famiglie i vecchi bambini gli animali i carri carichi di masserizie per cercare accoglienza nell'impero romano i generali romani che comandano sulla frontiera si informano ma questi altri barbari che vi hanno aggrediti si è capito chi sono sì si chiamano unni questi unni i romani finora non li conoscevano granché però andando in biblioteca trovano che qualche informazione c'è effettivamente gli storici e antichi ogni tanto ne parlano racconta questo ammiano marcellino che è uno dei grandi cronisti romani di quest'epoca ex militare che queste cose le ha vissute lui lo dice proprio se uno va a vedere in biblioteca si ti dicono che questi unni sono dei barbari ferocissimi nomadi cosa che ai romani sembrava particolarmente ripugnante perché l'attaccamento al proprio luogo d'origine era un pezzo importante della cultura romana questi invece sono nomadi vivono sui carri fanno il sesso sui carri nascono sui carri non sanno dove sono nati in sostanza e per di più questa la ricorderete ma appunto la racconta per la prima volta ammiano marcellino si nutrono di bistecche frollate sotto la sella del cavallo a questo punto i romani dicono abbiamo capito come mai vi siete spaventati effettivamente questi unni sono un nemico temibile va bene possiamo ragionare sulla possibilità di farvi entrare ma i gotti sono veramente tanti e i generali che comandano sulla frontiera non si prendono la responsabilità di farli entrare senza un permesso dall'alto bisogna chiedere all'imperatore l'impero romano in quel momento per comodità amministrativa è diviso in due parti occidente e oriente è troppo difficile gestirlo tutto da un unico centro di comando quindi bisogna andare dall'imperatore d'oriente perché il danubio è la frontiera europea della parte orientale che poi si estende all'asia minore alla siria alla palestina l'imperatore d'oriente è a 2000 chilometri di lì sull'altra frontiera quella con l'iran e si prepara a fare la guerra all'iran vecchia ossessione dei governanti occidentali evidentemente che non ha mai portato bene detto fra parentesi ma comunque l'imperatore valente cristiano ariano peraltro quindi in lite con altri cristiani cattolici ma insomma comunque l'imperatore valente è lì sulla frontiera della mesopotamia che prepara la guerra contro l'iran gli vengono a raccontare che una folla enorme di goti si è presentata alla frontiera del danubio chiedendo accoglienza si riunisce il consiglio dei ministri e ammiano marcellino ci racconta lui non c'era però ha provato a immaginare cosa hanno detto le decisioni che hanno preso le conosce quindi prova a immaginare cosa avranno detto e devono aver detto dice ammiano marcellino i ministri dell'imperatore devono avergli detto è la tua fortuna che li manda questi sono tutti cristiani ormai ma hanno ancora in mente concetti e immagini pagane la dea fortuna che segue e protegge l'imperatore è la tua fortuna che li manda abbiamo appunto bisogno di guerrieri e i goti sono bravi guerrieri quindi facciamoli entrare e assumiamoli perciò il messaggero ritorna altri 2000 chilometri finché non arriva al danubio arrivato al danubio con l'ordine dell'imperatore valente di farli entrare trova che la situazione è diventata un po' drammatica perché è passato parecchio tempo i goti sono lì accampati sulla riva del danubio con tutte le loro masserizie col terrore sempre di sentirsi gli zoccoli dei cavalli degli uni alle spalle sono molto inquieti e ogni tanto qualche gruppo ha provato a entrare clandestinamente ma naturalmente i romani sorvegliano la frontiera e finché non c'è il permesso dell'imperatore non entra nessuno quindi quelli che hanno tentato di entrare sono stati respinti c'è stato qualche scontro c'è scappato qualche morto poi adesso arriva l'ordine dell'imperatore li facciamo entrare come si è fatto tante altre volte con gruppi di barbari che volevano venire a vivere con noi a sperimentare la felicità romana come dice una legge imperiale di quell'epoca un altro autore che scrive in quell'epoca un greco è un appio che racconta queste cose dopo che tutto è andato a finire molto male e che quindi ha il senno di poi racconta anche qualche particolare tipo e gli ufficiali che fino a quel momento controllavano la frontiera e hanno respinto chi cercava di entrare e hanno fatto qualche morto sono stati messi sotto inchiesta per abuso di potere perché invece adesso l'ordine è questi sono non solo amici nuovi sudditi li facciamo entrare benissimo il ponte di costantino sul danubio non c'è più è crollato da tempo e nessuno è riuscito a ricostruire un altro quindi devono passare in barca in zattera bisogna traghettarli le truppe romane cominciano a requisire barche a fabbricare zattere e si comincia a traghettare questa gente al di qua della frontiera si va avanti per un po' il danubio è in piena tutte queste operazioni avvengono in modo sempre più caotico ci sono barche che si rovesciano gente che affoga famiglie che rimangono separate bambini che rimangono senza genitori dovete immaginare una popolazione dell'epoca che ha la stessa struttura demografica che hanno oggi i popoli del terzo mondo pochi vecchi tantissimi bambini comunque passano 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 ma sono talmente tanti e la situazione è talmente caotica che saltano tutte le regole la prima regola era passano li facciamo entrare e ci sono dei segretari con dei tavolini e ognuno che entra lascia il nome e si prende nota di tutto in modo che sappiamo quanta gente entra ma la prima cosa che succede è che non si riesce più a tenere il conto sono troppi poi ci sarebbero delle regole per esempio entrando i guerrieri devono consegnare le armi ma anche lì ci dicono eunapio oammiano marcellino che notate scrivevano già sapendo che sarebbe andata a finire male però hanno l'impressione di conoscere bene di prima mano le cose e ci dicono no no tanti di loro sono entrati con le armi nascoste in teoria bisognava perquisirli ma bastava pagare una bustarella alla sentinella e uno poteva entrare portandosi tutto quello che voleva sono cristiani entrano con i loro sacerdoti ma alcuni di loro sono ancora pagani una minoranza secondo eunapio è una buffonata che facessero finta di essere cristiani non è vero eunapio il greco che appunto racconta queste cose è un pagano uno della minoranza di intellettuali pagani che ci sono ancora nell'impero romano eunapio dice è chiaro che questi hanno fatto finta di essere cristiani perché da noi ormai c'è questa buffonata che comandano i cristiani e basta dire che sei cristiano e quelli allargano le braccia e fanno entrare tutti senza discutere chiusa parentesi in ogni caso arrivano arrivano e ne arrivano sempre di più nel caos più totale un'altra cosa che ci dicono gli osservatori dell'epoca è con così tanti bambini che avevano perso i genitori non si sapeva più di chi erano non c'è un ufficiale romano in quella zona che non si sia portato a casa la ragazzina o il ragazzino tanto bastava prenderli c'è la schiavitù nell'impero romano naturalmente dopo un po' arrivano 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 si guarda dall'altra parte non sono mica diminuiti i romani cercano di capire cosa sta succedendo sta succedendo quello che succederebbe oggi se di colpo nell'america latina si spargessi la notizia che trump ha aperto le frontiere col messico arriva altra gente altri gotti che non avevano affatto pensato fino a quel momento di abbandonare le loro case sapendo che c'è questa finestra che in questo momento i romani fanno entrare si muovono per entrare anche loro a questo punto i generali romani sulla frontiera si spaventano ne stanno arrivando troppi non sappiamo neanche quanti sono perciò decidono di fermarsi chiudere chi c'è c'è a questo punto hanno una marea di goti dentro e molti altri rimasti fuori questi goti entrati dentro bisogna gestirli come si faceva di solito appena possibile le autorità della zona devono trovare i latifondisti che hanno bisogno di operai di contadini i colonnelli dei reggimenti diciamo così devono dare l'elenco delle reclute che gli servono e si comincia a smaltirli però non c'è fretta li tengono fermi lì appena passato il Danubio in quello che noi oggi chiameremmo un immenso campo profughi e gli osservatori dell'epoca che ci raccontano queste cose ci dicono è chiaro che non avevano nessuna fretta i generali perché il governo aveva stanziato i fondi per mantenere questi profughi in attesa che fossero sistemati e messi al lavoro il governo aveva stanziato i fondi l'esercito doveva nutrire queste decine di migliaia di persone con razioni militari pagate dallo Stato ma i generali queste razioni ai profughi le vendevano e si mettevano i soldi in tasca e quindi era un enorme affare c'era da guadagnare un sacco di soldi quindi i generali li hanno tenuti lì il più a lungo possibile e i goti si erano portati dietro tutto da casa hanno pagato hanno dato tutto quello che avevano per nutrirsi quando non ce la facevano più non avevano più niente hanno cominciato a vendere i bambini perché anche lì vendere i figli come schiavi nel mondo antico è la risorsa normale di chi di chi sta morendo di fame dice qualcuno tutti i mercanti di schiavi di tutta la regione si sono precipitati lì perché lì c'era da fare grossi affari dopo un po' l'umore delle condizioni igieniche non ci parla nessuno gli antichi sono poco sensibili a queste cose ma potete immaginarle dopo un po' l'umore dei goti diventa i generali romani si spaventano e dicono va bene d'accordo in base ai patti adesso vi facciamo affluire nell'interno e vi mandiamo a lavorare come si era detto perciò mettono in piedi un grande convoglio e cominciano a trasferire questi profughi sotto scorta armata sono abbastanza preoccupati da prendere tutte le truppe presenti nella zona e mandarle a scortare questo enorme convoglio di 40 o 50 mila profughi possiamo immaginare occhio e croce diretto verso l'interno sono talmente spaventati che mettono tutte le truppe a disposizione a scortare il convoglio sulla frontiera non rimane più nessuno a far la guardia allora la prima cosa che succede è che quella folla che era rimasta fuori vedendo che adesso non ci sono più sentinelle comincia a passare clandestinamente il fiume quindi si ingrossa anche una massa crescente di gente entrata senza permesso ma il grosso sono entrati con un accordo preciso che riprende accordi già fatti in precedenza tante volte per cui devono essere sistemati arrivano alla prima grande città della zona siamo in traccia tra il Danubio e Istanbul nell'attuale Turchia europea arrivano nella prima grande città della zona e siccome nell'impero romano ci sono le autonomie locali e ogni città si governa più o meno da sola questa grande città Marcianopoli decide di non fare entrare i profughi perché i cittadini hanno paura e non fare entrare neanche i soldati perché in genere i civili nell'impero romano hanno una certa paura anche dei soldati i quali sono sbrigativi violenti prendono si considerano superiori ai civili per di più i soldati sono in gran parte barbari anche loro reclutati fra i barbari non entra nessuno entrano solo i capi quindi la marea dei profughi si accampa fuori sotto scorta militare mentre in città entrano solo i generali romani e i capi dei goti con i quali diventeranno nuovi sudditi dell'impero romano poi se è vero quello che ci racconta Miano Marcellino quella notte in città i generali romani si prendono veramente paura e decidono di uccidere i capi dei goti per evitare che questa massa possa magari ribellarsi togliamo di mezzo i capi e quindi li invitano a un banchetto con l'idea di ubriacarli e poi trucidarli solo che si scopre che i goti regano il vino meglio dei romani di conseguenza non riescono a ubriacarli sono ancora lì che banchettano quando fuori dalla città scoppiano i primi tafferugli perché i goti rimasti fuori non ne possono più cominciano a litigare con i soldati tirano fuori le armi nascoste e i soldati vengono sopraffatti mentre succede questo dentro la città i principi goti ancora non del tutto ubriachi si rendono conto di cosa sta succedendo gridano tradimento si precipitano fuori fuori i goti hanno sopraffatto i soldati e stanno prendendo le loro armi a questo punto i capi dei goti dicono ai loro i romani ci hanno traditi non hanno mantenuto i patti non hanno mantenuto niente di quello che avevano promesso ma noi adesso siamo qui siamo dentro siamo armati siamo i goti gliela facciamo vedere noi e cominciano a saccheggiare il paese ed ammassare bottino e succedono delle cose estremamente inquietanti intanto le case dei ricchi romani sono piene di schiavi goti perché in tante guerre precedenti i goti avevano sempre preso delle batoste e ogni volta un'infinità di goti venivano ridotti in schiavitù le case dei romani sono piene di schiavi goti che adesso cominciano a scappare di casa e andare a unirsi all'esercito dei goti che sta saccheggiando il paese arriva lo schiavo goto e dice vi porto io alla villa del padrone lo so io dove ha nascosto l'argenteria ecco scappano anche schiavi che non sono goti c'è una così bella occasione scappano e vanno a unirsi all'esercito dei saccheggiatori arrivano anche disoccupati minatori in sciopero emarginati di tutti i tipi che vanno a unirsi all'esercito non solo quando si sparge la voce al di là del danubio altri al di là del danubio si muovono e vengono per partecipare a questa meravigliosa impresa arrivano altri goti arrivano perfino degli unni i quali all'inizio erano quelli che avevano spaventato tanto i goti adesso vengono dicendo partecipiamo anche noi l'imperatore valente è a 2000 km di distanza che prepara la guerra contro l'iran viene a sapere cosa sta succedendo non ha voglia di perdere tempo con questi quattro straccioni manda qualche reparto con qualche generale con l'ordine di spazzarli via i primi generali romani che affrontano i goti vengono battuti ci vuole un po' di tempo perché avvenga tutto questo nel complesso passano circa due anni durante i quali i goti hanno trasformato il saccheggio del paese in un'impresa industriale hanno creato dei grandi centri di raccolta del bottino e poi lo trasmettono in grandi convogli al di là del confine del Danubio finalmente l'imperatore valente capisce che deve andarci lui col grosso dell'esercito rinuncia alla guerra contro l'iran si mette in marcia a piedi naturalmente dalla Mesopotamia a Costantinopoli duemila chilometri che lì dopo mesi di marcia l'esercito con l'imperatore arriva a Costantinopoli e lì la situazione è tesissima perché dalle mura di Costantinopoli si vedono bruciare le ville e i villaggi saccheggiati dai goti è talmente tesa la situazione che l'imperatore valente quando si presenta in pubblico ai giochi del circo viene fischiato e questo è un pessimo sintomo per un imperatore romano l'imperatore è eletto a vita non ha il problema di affrontare le elezioni è eletto a vita ma bisogna vedere quanto dura la vita se non sai far politica dura poco essere fischiato dalla folla è il peggiore dei sintomi bisogna assolutamente muoversi perciò finalmente valente con l'esercito esce da Costantinopoli e marcia alla ricerca dei goti e li intercetta nella zona di un'altra città chiamata appunto Adrianopoli e intercetta quello che ormai è un enorme convoglio di carri carichi di bottino con un'infinità di barbari di varie etnie che sono venuti a unirsi con le loro famiglie e tutto quanto l'intercetta e lì succede ancora una cosa surreale perché intercettati dall'esercito romano i goti mandano fuori una delegazione con dei preti cristiani dicendo forse possiamo ancora metterci d'accordo dopo tutto siete voi che ci avete dato il permesso di entrare voi non ci avete dato quello che ci avevate promesso è successo quello che è successo ma adesso mettiamoci d'accordo e l'imperatore valente comincia a negoziare mentre stanno negoziando fra i goti schierati a difesa dei loro carri e i legionari romani a loro volta schierati cominciano a partire insulti qualche freccia qualcuno tira fuori la spada cominciano a combattersi la battaglia di vampa senza che nessuno l'abbia voluto e la battaglia di adrianopoli del 9 agosto 378 si conclude in modo totalmente inaspettato con l'annientamento dell'esercito romano l'esercito romano è annientato l'imperatore valente scompare non si è mai saputo che fine abbia fatto e i goti hanno vinto goti continuo a dire così per comodità ma ci sono anche unni alani ma i goti hanno vinto e non c'è più un esercito romano in oriente e non c'è più un imperatore in oriente a questo punto i goti vanno anche a sediare costantinopoli sono incerto se raccontarvi ancora un aneddoto ma sì perché poi gli arabi che ricompariranno ve lo racconto tanto per darvi un'idea di come quel mondo è diverso dall'idea che noi potremmo farci dell'impero romano i goti assediano la capitale costantinopoli per fortuna non hanno macchine d'assedio quindi sono bloccati fuori ma tengono l'assedio molto a lungo dentro costantinopoli c'è una guarnigione romana questa guarnigione romana comprende fra l'altro dei reggimenti di cavalleria araba perché gli arabi sono in parte sudditi dell'impero romano e in parte i nomadi del deserto sono comunque amici che proprio come i goti all'occasione forniscono mercenari dunque dentro costantinopoli c'è un reggimento di cavalleria araba saracena come dicono loro che è un reggimento dell'esercito romano questo reggimento saraceno esce fuori ad attaccare i goti i saraceni sono secondo le descrizioni di qualche autore del tempo magari un po' caricate dei selvaggi come non si sono mai visti cavalcano nudi con questi lunghi capelli al vento il primo saraceno che esce abbatte un goto gli salta alla gola e comincia a bere il suo sangue a questo punto i goti terrorizzati da come sono barbari i soldati romani si danno alla fuga perché in confronto ai saraceni i goti sono gente civilissima cristiani oltretutto peccato che i saraceni che bevono sono soldati romani ma comunque tanto per dire che era un mondo abbastanza complesso l'assedio di costantinopoli alla fine fallisce un nuovo imperatore teodosio fa dei patti con i goti ne farebbe a meno quando può se sorprende un gruppo di goti isolato li stermina ma sono troppi e roma è veramente a corto di risorse teodosio ha rimesso in piedi un esercito con grande fatica tra l'altro noi abbiamo le sue disposizioni nuove leggi per il reclutamento chiunque sia tenuto al servizio militare si presenti immediatamente in caserma chiunque sia figlio di un soldato è obbligato anche lui a presentarsi e prendere servizio nell'esercito tutti gli immigrati sono tenuti a presentarsi e prendere servizio nell'esercito se l'amministratore di un latifondo non consegna gli operai immigrati e potrebbe non volerli consegnare perché gli servono sarà punito col rogo così teodosio rimette in piedi un esercito ma non riesce ad annientare i goti alla fine deve venire a patti e i patti sono che i goti dicono va bene facciamo pure un accordo ma non più alle condizioni di prima noi non abbiamo voglia di essere messi a lavorare sui latifondi o che i nostri ragazzi diventino soldati romani strappati alle famiglie noi siamo d'accordo di rimanere in pace dentro l'impero romano e siamo d'accordo di combattere per l'imperatore quando ce lo chiede ma vogliamo vivere tutti insieme sotto i nostri capi e vivendo secondo le nostre leggi e quando l'imperatore vorrà noi combatteremo per lui purché paghi bene in ogni caso ci deve sistemare alloggiare mantenere e noi resteremo tutti insieme continueremo a essere i goti allora la storia delle invasioni barbariche conoscerà tante altre vicende ma questo è il punto di partenza è la prima volta che una popolazione barbara viene accolta nell'impero romano non alle condizioni abituali che prevedevano obblighi pesantissimi e garanzie abbastanza sicure perché la cittadinanza comunque arrivava è la prima volta che vengono accolti senza regole o meglio dettano loro le regole e la loro regola è non vogliamo doverci integrare rinunciare a essere i goti è la prima volta succederanno tante altre cose ma il destino di una parte dell'impero romano è di essere nel giro di 50 anni occupato da popolazioni barbariche che vedono le cose così noi veniamo a insediarci l'imperatore ci concede dei territori con le buone o con le cattive la popolazione romana continua a viverci a fare i suoi affari ma noi i goti i franchi i vandali quel che volete noi però ci insediamo lì a comandare sostituiamo l'esercito romano che verrà evacuato e i nostri capi manterranno l'ordine la pace e la giustizia anche per la popolazione romana di questo territorio così nascono quelli che noi chiamiamo i regni romano barbarici allora la cosa importante da aver chiara per il tema che abbiamo oggi e cioè l'Europa è questa che anche se la prima grande invasione appunto quella dei goti è cominciata nell'impero romano d'oriente poi però per una serie di motivi le invasioni spingono verso occidente i goti stessi il governo dell'impero romano d'oriente riesce abilmente a convincerli che è meglio andare in occidente e il governo dell'impero romano d'occidente è troppo debole per riuscire a evitarlo altre invasioni arrivano direttamente dal reno invece i vandali i franchi morale nel giro di un secolo ricordate quella data che si studia a scuola il 476 dopo cristo deposizione di romolo augustolo ultimo imperatore romano no ultimo imperatore romano d'occidente nel 476 dopo cristo ormai l'italia la gallia la spagna il nord africa sono governati da re barbari non c'è più non ha più senso che esista un imperatore romano in occidente l'unico imperatore romano è quello d'oriente che sta a costantinopoli poi anche il nord africa verrà poi perso ma al di là del nord africa quello che conta per noi è che comincia qui per la prima volta una fase della storia che è una fase della storia d'europa finora parlavamo di un'esperienza che è comune a tutto il mondo mediterraneo essere governati dai romani essere imbevuti di cultura greca diventare cristiani erano tutte cose che avevano investito chi abitava in gallia come chi abitava in egitto o chi abitava in asia minore adesso invece le invasioni barbariche e soprattutto la nascita dei regni romano barbarici è un fenomeno che riguarda solo l'europa per la prima volta quel pezzo di mondo ha una sua storia separata da quella del mondo mediterraneo e guarda caso è proprio all'indomani delle invasioni barbariche che in qualche testo scritto in occidente si comincia a parlare di Europa come un luogo che ha un suo destino diverso rispetto a quello dell'impero romano siamo alla fine del sesto secolo papa Gregorio Magno papa Gregorio Magno da Roma Roma è uno dei pezzetti d'Italia che non sono mai stati conquistati dai Longobardi diversamente dal resto d'Italia quasi tutta compresa la Basilicata che è stata completamente popolata dai Longobardi invece Roma è libera non è stata invasa tecnicamente fa ancora parte dell'impero dell'unico impero che resta quello d'Oriente però le relazioni con l'impero d'Oriente sono difficili Roma è isolata è sperduta nell'estremo occidente vista da Costantinopoli a un certo punto a Costantinopoli il patriarca di Costantinopoli decide di assumere il titolo di patriarca universale a Roma papa Gregorio Magno ci rimane malissimo e scrive all'imperatore Maurizio per lamentarsi di questo fatto che il patriarca di Costantinopoli abbia assunto il titolo di universale e in questa lettera papa Gregorio Magno dice all'imperatore non dimenticatevi di noi non dimenticatevi e qui cito dell'Europa asservita al diritto dei barbari è la prima volta che emerge l'idea che l'Europa è un pezzo dell'impero romano che ha avuto un destino diverso dal resto dell'impero e non è un caso evidentemente perché in quello stesso momento San Colombano per esempio che viene dall'estremo occidente dall'Irlanda San Colombano in quegli stessi anni rivolgendosi a papa Gregorio Magno lo saluta con l'appellativo di fiore augusto di tutta l'Europa di nuovo non del mondo e neanche della cristianità ma di tutta l'Europa e quando poi verrà un altro papa Bonifacio IV inizio VII secolo sempre San Colombano si rivolge a papa Bonifacio chiamandolo capo di tutte le chiese d'Europa quindi in altre parole almeno il clero che poi comprende più o meno tutti quelli che sono abituati a leggere scrivere pensare almeno il clero in occidente ha percepito che ormai l'Europa è un pezzo di mondo con una sua identità e un suo destino dopodiché questo mondo sia il mondo romano e cristiano d'oriente che ormai parla solo greco sia il mondo occupato dai barbari in Europa deve affrontare una nuova minaccia e sono gli arabi naturalmente le invasioni degli arabi che avvengono proprio nel VII secolo poco dopo l'epoca di Gregorio Magno e di San Colombano le invasioni degli arabi significano di nuovo un cambiamento impressionante della mappa del mondo perché si mangiano un grosso pezzo dell'impero romano d'oriente e tra l'altro tutti i luoghi che erano alla culla della cristianità la Palestina l'Egitto l'Antiochia Gerusalemme Alessandria d'Egitto le grandi metropoli cristiane del mondo romano gli arabi si mangiano tutto il Medio Oriente si mangiano il Nord Africa si mangiano anche un pezzo dell'Europa asservita ai barbari cioè la Spagna abbattono un regno romano barbarico quello dei Goti a questo punto gli arabi si trovano di fronte a un mondo quello greco-romano di cui assorbono con piacere la cultura la tecnologia la scienza e peraltro dal loro punto di vista anche dal loro punto di vista Europa Africa non hanno alcun senso questi concetti l'impero arabo è anche lui un impero che si estende su tre continenti da un lato confina con la Cina e dall'altro confina i Pirenei con il Regno Franco arrivati in Europa in Spagna affacciati ai Pirenei gli arabi che sono curiosi cominciano a farsi un'idea dei popoli che vivono lì quelli che noi ormai potremmo chiamare i popoli d'Europa gli arabi dicono semplicemente i popoli del Nord o meglio i popoli del sole pallido i popoli che vivono in quei luoghi dove sembra assurdo che uno possa voler vivere fa freddo nel decimo secolo il geografo arabo Massudi scrive non cito la lettra sto parafrasando questi popoli vivono in un luogo assurdo il sole è pallido c'è umidità nevica fa un freddo cane è chiaro che quelli che vivono lì sono condizionati da questo clima invivibile perciò i popoli del sole pallido sono grandi e grossi rozzi ignoranti freddi e torpidi i loro cervelli non funzionano perché è chiaro stando al freddo non possono funzionare sono stupidi e infatti questa rimarrà l'opinione dominante dei geografi arabi che provano a raccontare al loro pubblico a Cordova o a Palermo che gente sono questi abitanti dell'Occidente si tratta di popoli che Allah forte e potente ha contrassegnato con la violenza e l'ignoranza e nel loro insieme con l'ostilità e l'ingiustizia un altro storico arabo un po' più tardi questo veramente nota un altro dettaglio che lascia stupefatti gli arabi parlano 25 lingue diverse nessun popolo è in grado di intendere la lingua di alcuno degli altri e rispetto a un impero arabo dove appunto da Samarkanda a Cordova si parla la stessa lingua evidentemente è una cosa un po' scioccante dopodiché gli arabi si spingono anche oltre i Pirenei perché fermarsi lì abbiamo davanti questi popoli del freddo torpidi e rozzi anche se forse non è interessante conquistare il loro paese però intanto andiamo a prendere quel che c'è di buono le scorrerie arabe al di là dei Pirenei sono costanti non c'è ripeto nessuna informazione sul fatto che volessero estendere oltre le conquiste paesi del genere non meritano di essere conquistati però però hanno ricche chiese monasteri pieni di tesori e quindi ogni tanto lanciamo qualche scorreria oltre i Pirenei è proprio in occasione di una di queste scorrerie oltre i Pirenei che viene combattuta la battaglia di Poitiers nel 732 dopo Cristo che è diventata nella memoria dell'Occidente l'altra grande battaglia decisiva che ha plasmato le sorti del mondo la battaglia di Poitiers avviene perché dalla Spagna è stata lanciata una grande scorreria al comando del comandante in capo il Wali di Al-Andalus il governatore della Spagna Abdel Rahman Abdel Rahman alla testa di un esercito si inoltra in Gallia con l'idea di saccheggiare il più possibile davanti a lui c'è il capo dei Franchi non è il re quella di Paolo Villaggio e Fabrizio De Andrè è una licenza poetica re Carlo che torna dalla guerra non era re Carlo era soltanto il primo ministro e il comandante militare del regno franco ma suo figlio Pipino usurperà ben presto il regno e diventerà il vero e legittimo re quindi non è così grave la confusione Carlo Martello maestro di palazzo è il termine tecnico dei Franchi raduna un esercito per affrontare questa scorreria in grande stile capeggiata dall'Uali di Al-Andalus Carlo Martello si chiama così perché Carl è un nome della sua famiglia e del suo popolo che vuol dire forte coraggioso e si chiama Martello non si sa esattamente perché secondo qualcuno per le sue vittorie militari che l'hanno fatto paragonare a Marte quindi un piccolo Marte ma in realtà i cronisti medievali la pensavano diversamente è proprio un martello come scriverà secoli dopo un cronista francese Carlo si chiama così perché così come il martello sbriciola e spezza il ferro e l'acciaio e tutti gli altri metalli così lui sbriciolava e spezzava in battaglia tutti i suoi nemici e a quel punto viene in mente che c'è anche un altro grande capo guerriero che è stato soprannominato il martello ed è Giuda Maccabeo dove Maccabeo significa precisamente quello è la metafora del maglio del martello Giuda Maccabeo capo della grande rivolta ebraica contro i siriaci appunto nella Bibbia allora Carlo Martello alla testa di un esercito franco cerca di fermare Abdel Rahman che ha appena incendiato l'abbazia di Saint-Hilaire vicino a Poitiers e adesso marcia su un bottino ancora più succulento la città la città di Tours siamo nella Francia centrale attuale la città di Tours dove c'è la grande basilica di San Martino di Tours che è al tempo stesso il più importante centro religioso della Gallia quindi contiene grandiosi tesori e per di più agli occhi dei musulmani è anche veramente il simbolo del fatto che loro hanno ragione e i cristiani hanno deviato dalla retta via perché una delle cose che danno più forza agli arabi ai musulmani scusate quando in questi secoli si confrontano con i cristiani è la certezza che i cristiani hanno avuto la loro occasione il grande profeta l'hanno avuto Gesù però poi i cristiani sono diventati politeisti hanno cominciato a parlare di Trinità tre dei in uno e la Madonna e i Santi hanno dimenticato che Dio è solo uno è irraggiungibile impossibile da rappresentare no i cristiani hanno perso la testa in questo il culto dei Santi è una delle cose che danno ai musulmani la garanzia di aver ragione loro dunque capite andare a prendere saccheggiare e bruciare la basilica di San Martino a Tours è un obiettivo che attira e lì sulla grande strada romana che collega Poitier a Tours i franchi sbarrano la strada e viene combattuta la battaglia di Poitier e l'esercito arabo viene sconfitto viene sconfitto così sanguinosamente che i cronisti arabi che raccontano questa battaglia la chiamano Balat es-Shuada la strada dei martiri perché c'è la strada romana la strecata appunto su cui si è combattuto e tanti tanti musulmani hanno trovato lì il martirio tra gli altri Abdel Rahman che trovò la morte del martire in paese nemico nel mese di Ramadan dell'anno 114 tra l'altro notate che popolo giovane erano nel loro anno 114 perché vi sto raccontando della battaglia di Poitier primo perché il principale cronista dell'epoca che racconta questa battaglia che è un cronista spagnolo un cristiano che vive nella Spagna sotto dominio arabo cosa normalissima perché nella Spagna sotto dominio arabo la maggioranza della popolazione è rimasta cristiana e ha il suo clero i suoi monaci i suoi vescovi che funzionano in modo del tutto regolare questo cronista cristiano che scrive in latino una cronaca alla metà dell'ottavo secolo cronista anonimo racconta la battaglia di Poitier e la racconta così prima racconta dell'immenso esercito che Abdel Rahman ha condotto al di là dei Pirenei superando le montagne dei Baschi calpestando i monti come se fossero pianura come un esercito di cavallette immenso e poi racconta il cronista spagnolo hanno trovato di fronte a loro Carlo il capo dei Franchi bellicoso esperto di guerra e di fronte all'assalto della cavalleria degli arabi i Franchi e qui il cronista li chiama Gentes Septentrionales questi uomini del nord sono rimasti fermi hanno sbarrato la strada sono rimasti fermi in difesa dice il cronista con un'immagine che poi è piaciuta enormemente agli storici nostri dell'ottocento come un muro di ghiaccio sono rimasti fermi lì come un muro di ghiaccio contro cui si è infranta la carica degli arabi e qui vedete che l'immagine comunque è quella di un uomo che vive nel mondo musulmano e nel mondo arabo e che percepisce questi del nord come li percepiscono gli arabi freddi torpidi ma capaci di star fermi sono uomini di ghiaccio anche loro vivendo in quei paesi del nord e poi e poi il cronista dice finita la battaglia con la disfatta degli arabi in realtà in realtà non tutti erano stati uccisi gli arabi e perciò sono tutti andati a dormire ciascuno nel suo accampamento e il mattino dopo dice il cronista gli europei si sono spinti fino all'accampamento degli arabi e lo hanno trovato vuoto perché erano fuggiti via e finisse lì ma dice gli europei ora questa sto dicendo con troppa enfasi è una roba incredibile nessuno ha mai detto gli europei è la prima volta nella storia che in latino europenses compare questa parola per indicare una popolazione sono gli uomini del nord sono i fanchi il cronista andaluso lo sa usa entrambe queste espressioni ma poi gli viene da chiamarli gli europei questa battaglia non è stato uno scherzo è stata una battaglia importante in cui è morto il governatore della spagna e un'infinità di guerrieri hanno trovato il martirio ed è la battaglia che proietta Carlo Martello ai vertici dell'immaginario dei suoi contemporanei per cui sarà poi facile ai suoi discendenti al figlio Pipino al nipote Carlo Magno che è lui tra l'altro quello che vedete lì nell'immagine verosimilmente è lui anche se non siamo sicurissimi permetterà appunto a Pipino il breve di usurpare il regno franco e a Carlo Magno di diventare imperatore la gloria di Carlo Martello è all'origine di tutto questo ma la cosa più interessante in realtà è che la battaglia di Poitiers diventa nella memoria europea il momento in cui è stato salvato il mondo ci mette un po' per guadagnare questo status perché all'epoca la battaglia si viene ricordata celebrata ogni tanto qualche cronista ci aggiunge un po' di colore come il cronista romano l'autore del Liber che è il continuatore della grande cronaca dei Papi che si chiama il Liber Pontificalis il quale racconta come questi malvagi musulmani infedeli sono stati sconfitti e hanno lasciato sul campo 375.000 morti contro 1500 franchi ma in generale i cronisti medievali ricordano questa battaglia ma non sono così entusiasti non hanno l'abitudine di pensare che le battaglie possano segnare la storia del mondo dopo tutto una battaglia lo decideri chi deve vincere invece nell'età moderna Poitiers viene riscoperta viene riscoperta e a partire dal 600 si comincia a dire eh no però pensate cosa sarebbe successo se vincevano gli arabi una volta che questa idea pensate cosa sarebbe successo se vincevano loro entra in circolo nella cultura europea non c'è più limite François Mésoret storico francese del 600 i franchi di Carlo Martello liberatori del genere umano Voltaire siamo agli illuministi settecenteschi Voltaire nell'essay sur les mœurs senza Carlo Martello la Francia diventava una provincia musulmana Gibbon grande storico del mondo romano dell'antichità romana grande storico inglese anche lui del 700 illuminista la battaglia di Poitiers è l'avvenimento che ha fatto sfuggire la Gran Bretagna e la Gallia i nostri vicini al Corano senza Carlo Martello forse oggi l'interpretazione del Corano sarebbe insegnata nelle scuole di Oxford e i suoi pulpiti dimostrerebbero un popolo circonciso la santità e la verità della rivelazione di Maometto bisogna dire il 6 e il 700 sono un'epoca veramente moderna in cui c'è anche chi è capace di dire il contrario dei luoghi comuni mentre la maggior parte degli autori si sfogano con questi luoghi comuni sulle cose terribili che sarebbero successe se avessero vinto i musulmani c'è anche un autore come il cardinale Dorez grande memorialista francese del 600 che dice ma che peccato che non abbiano vinto loro è un cardinale notate eh i saraceni di Spagna potevano far nascere in Francia il gusto delle scienze e delle arti Carlo Martello li ha sterminati a Poitiers e l'unico risultato di questa battaglia è stato il rafforzamento della sua potenza ma nell'800 ci saranno pochi come il cardinale Dorez in generale si continua a dire si trattava della salvezza della Francia anzi di tutta l'Europa cristiana Schlegel in Germania filosofo ottocentesco il braccio di Carlo Martello ha salvato e liberato le nazioni cristiane dell'Occidente dall'abbraccio mortale dell'Islam che tutto distrugge mi piace mi sembra di attualità tutto questo uno storico inglese Arnold 1840 no americano americano 1846 la vittoria di Carlo Martello a Poitiers è una di quelle liberazioni fondamentali che hanno influenzato per secoli la felicità dell'umanità e finalmente a metà ottocento uno storico inglese inventa una cosa che piace moltissimo le 15 battaglie decisive della storia del mondo da maratona a Waterloo capite cosa vuol dire un progetto del genere la storia del mondo cioè vista dall'Inghilterra dell'ottocento la storia del mondo destinata a portare l'Europa a dominare il mondo e l'Inghilterra al vertice tutto questo grazie al fatto che i greci che erano i nostri antenati tutti lo sanno hanno sconfitto gli orribili persiani asiatici a Maratona e grazie al fatto che Carlo Martello ha sconfitto gli orribili arabi asiatici a Poitiers e grazie al fatto che il duca di Wellington ha sconfitto gli orribili francesi di Napoleone a Waterloo adesso il mondo è arrivato alla perfezione che noi conosciamo questo vuol dire scrivere a metà ottocento le grandi battaglie decisive della storia del mondo fra cui Poitiers io l'ho fatta lunghissima e mi fermo subito ma vi voglio ancora dire due cosette una non c'è più nessuno che come il cardinale Doretz dice ma forse era meglio se vincevano gli arabi uno l'ho trovato e vediamo se indovinate di chi si tratta siamo nel novecento se a Poitiers Carlo Martello fosse stato battuto il volto del mondo sarebbe cambiato già che il mondo era già votato all'influenza giudaica e il suo prodotto il cristianesimo è una cosa così scipita sarebbe stato molto meglio se il maomettanesimo avesse trionfato questa religione ricompensa l'eroismo promette ai guerrieri le gioie del cielo animati da un tale spirito i germani avrebbero conquistato il mondo dai discorsi a tavola di Hitler raccolti per ordine di Martin Bormann 28 agosto 1942 dopodiché per chiudere ma questo è importante un minuto vi dicevo che il nipotino Carlo Magno sarà incoronato a Roma imperatore imperatore di cosa? dell'impero romano ufficialmente ma i suoi sanno benissimo che si sta parlando dell'Europa già nel 775 un prete irlandese sempre gli irlandesi che da occidente vedono le cose in modo un po' diverso ovviamente loro stanno nell'estremo occidente un prete irlandese scrive a Carlo Magno che è ancora solo re dei franchi tu sei l'onore e la gloria del regno d'Europa il grande collaboratore di Carlo Magno al cuino inglese anche lui tu sconfiggendo i sassoni eccetera hai diffuso il cristianesimo in tutte le parti d'Europa e finalmente nel 799 un poeta che celebra l'incontro fra Carlo Magno re dei franchi e il papa Leone III che è venuto a chiedergli molte cose a cui non mi fermo ma in sostanza ne nascerà poi il viaggio di Carlo Magno a Roma e la sua incoronazione imperatore il poeta che racconta questo incontro definisce Carlo Magno il re padre dell'Europa e in effetti l'Europa l'impero di Carlo Magno è l'Europa occidentale come poi nei secoli si è ci siamo abituati a considerarla e l'incoronazione di Carlo Magno a Roma ha definitivamente assicurato Roma all'Occidente troncando i suoi vincoli con Costantinopoli eccetera e ha creato l'Europa in un certo senso naturalmente c'è qualcuno che quando Carlo Magno viene incoronato imperatore a Roma si affligge e sono i bizantini cioè i romani d'Oriente che considerano se stessi i veri romani il cronista bizantino che racconta l'incoronazione di Carlo Magno a Roma in sostanza dice ecco credevamo che le invasioni barbariche fossero finite invece non sono mica finite adesso i barbari hanno conquistato anche Roma noi però le vediamo un po' diversamente perché ovviamente i discendenti di quei barbari siamo noi grazie 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 ci concediamo grazie a tutti ci concediamo qualche altro minuto per le domande perché come ho detto all'inizio ci seguono in streaming da tantissime parti e quindi abbiamo raccolto hanno raccolto naturalmente le persone dello staff domande dal blog dei giovani di Matera 2019 e quindi alterneremo queste domande con altre domande che arriveranno dal pubblico e che eccezionalmente raccoglierà l'amministratore delegato dell'editori la terza che è Alessandro la terza quindi grazie allora il microfono allora io comincerei a rispondere a una delle domande che sono arrivate dal blog dei giovani professore magari ha leggato o no allora ci serve un altro microfono è facile la seconda però in un mondo multiculturale come quello romano fino a che punto si poteva tollerare l'alterità dello straniero fino a quanto potevi essere straniero quindi che ruolo oggi come allora la percezione rispondo provo allora in realtà attenzione il mondo romano era un mondo multietnico dove si poteva appartenere alle etnie più diverse e integrarsi e fare carriera c'è un certo punto tra il primo e il secondo secolo sotto Adriano e Traiano c'è un importantissimo generale romano lusio quieto generale governatore di province eccetera che è un berbero del nord africa con tutti i tratti somatici dei berberi del nord africa e ciò non gli impedisce di essere un altissimo militare e funzionario romano più tardi nel terzo secolo ci sarà tanto per dare un esempio un imperatore romano che è arabo visto che abbiamo parlato di arabi ricordiamolo Filippo l'arabo il quale si chiama Filippo segno che è un arabo che parla greco e tuttavia è imperatore romano e tutti sanno che è arabo quindi quello è un mondo multietnico ma non è multiculturale cultura ce n'è una sola ed è la cultura greca adottata anche dai romani che eccezionalmente si può come dire svolgere in due lingue in greco o in latino ma è sempre la stessa cultura ha le stesse basi filosofiche intellettuali e proprio il fatto che il mondo è multietnico ma non è multiculturale è la chiave che usano i romani per assorbire e integrare gli altri è una cosa paragonabile al modello francese diciamo così su cui è successo oggi si può avere qualche dubbio ma il modello francese certamente è sempre stato siete tutti francesi purché vogliate essere francesi e parliate francese allora non ci interessa se siete magrebini portoghesi ebrei lituani diventate tutti francesi così facevano i romani e in questo senso appunto l'alterità dello straniero si era tollerata ma era una condizione di inferiorità finché eri straniero eri barbaro i romani non hanno inventato loro questa bella cosa di dividere il mondo fra noi e i barbari l'hanno inventata i greci e dal punto di vista dei greci anche i romani erano barbari naturalmente ma quando poi i romani hanno conquistato la grecia i greci hanno accettato un piccolo compromesso modifichiamo la nozione di barbaro e barbaro chi non è greco né romano dopodiché essere barbaro tu potevi essere barbaro e potevi anche stare nell'impero restando barbaro se proprio volevi continuare a non assimilarti a essere un poveraccio spregevole che non avrebbe mai fatto carriera però la nonna continua a cucinare i piatti di casa tua e si rifiuta di imparare il latino però rimanevi un poveraccio mentre appena decidevi di adottare l'unica cultura vera accettata allora potevi integrarti e oggi perché professore c'era e oggi no dunque che ruolo ha oggi come allora la percezione ma certo io citavo prima il fatto che i barbari sono alti e biondi e quindi chiaramente inferiori ma ci sono lettere di padri della chiesa che in corrispondenza con un generale romano che però è goto di origine magari e la corrispondenza è una corrispondenza d'affari tra un arcivescovo e un generale per raccomandare qualcuno per un appalto chiaramente ecco però siccome si scrive in stile fiorito l'arcivescovo scrive al generale tu sei la dimostrazione cito a memoria appunto che essere romano o barbaro non è questione dell'anima ma solo del corpo a differenza dei corpi ci sono ma non contano niente e un altro padre della chiesa scrivendo a un altro generale romano se non sbaglio un franco questa volta come etnia gli dice sì tu sei sei un franco per origine ma sei un greco da tutti i punti di vista ormai nella parte orientale dell'impero romano essere greci o essere romani è la stessa cosa sei greco sei dei nostri ecco quello è normale allora oggi noi siamo un po' in mezzo a un guado secondo me perché da un lato siamo molto migliori dei romani e nella nostra cultura magari non nell'opinione pubblica profonda ma nella nostra cultura ormai si è affermata l'idea che non è vero che c'è un'unica civiltà e tutte le altre sono inferiori e se vengono cancellate è meglio noi abbiamo imparato a apprezzare almeno in teoria e fino a ieri anche civiltà culture cucine religioni diverse dalla nostra questa è una gran bella cosa ma ci priva anche di quello strumento formidabile che aveva il mondo greco romano per assimilare gli altri che consisteva nel dire una volta che hai acquisito la nostra cultura sei dei nostri perché è l'unica cosa che conta quindi noi siamo un po' alla ricerca di un modello secondo me prendiamo una domanda di qua allora regola di ingaggio è una domanda c'è qualcuno vuole fare una domanda al professore che come vedete risponde largamente una di qua vi siete giocati la domanda velocemente rispetto alla modernità qual è il periodo dell'antichità del mondo antico che oggi trova più riscontri guardi i riscontri possono essere tanti non in blocco per esempio quando io guardo adesso non succede più spesso dieci anni fa vi ricorderete non potevi accendere il telegiornale senza vedere un generale americano che faceva una conferenza stampa dall'Iraq o dall'Afghanistan questi generali americani erano di solito giapponesi filippini giamaicani messicani con visi e cognomi chiaramente giapponesi o messicani tuttavia erano generali americani e a me è venuto in mente allora e l'ho sempre pensato che in effetti gli Stati Uniti assomigliano all'impero romano sono cioè un mondo incredibilmente multietnico però con un'identità molto forte e con un esercito che è e questo è veramente simile nel mondo romano l'esercito era il modo normale per assimilarsi se eri ricco e raccomandato ti davano la cittadinanza personale ma se eri uno qualunque il modo per diventare romano e far dimenticare che eri un barbaro era il servizio militare ti facevi i tuoi 25 anni di servizio militare e all'uscita eri automaticamente cittadino romano quando ho scoperto che l'esercito degli Stati Uniti in un paese che periodicamente picchia sui clandestini sui senza permesso eccetera assume chiunque senza chiedergli le carte e quindi l'immigrato senza permesso che non troverebbe mai un lavoro legale negli Stati Uniti però può fare il soldato mi sono detto che effettivamente c'è una somiglianza vistosa ecco però appunto sono pezzi di analogie non c'è mai un'epoca che in blocco a me verrebbe in mente una faccia lunga un'altra analogia che invece con il sesto settimo secolo quando ti accorgi che tra gli intellettuali la capacità di ragionare in modo logico di concatenare pensieri logicamente strutturati anziché parlare solo per analogie per immagini per propaganda diminuisce ogni tanto a me sembra che anche noi stiamo vivendo un'epoca di quel genere in cui nel discorso pubblico ma anche intellettuale purtroppo ma soprattutto politico la logica la coerenza non hanno nessuna importanza e invece contano le associazioni la forza della ferma ecco lì ogni tanto mi viene da dire siamo nel settimo secolo che non è stata una grande epoca da molti punti di vista ecco in genere ora adesso rimaniamo su questa lunghezza d'onda per prendere la domanda del blog che di fatto chiede se è possibile un parallelismo tra la crisi del mondo romano partita con Adrianopoli e anche con il tema della vittoria che si è di Poitiers in realtà lasciamo perdere Poitiers e Adrianopoli il tema però non parlare un'ora è in che misura è possibile stabilire no perché la domanda è grande allora nei parallelismi perché è un tema molto delicato brevemente voi provate a immaginare un mondo ricco strutturato con una sua economia che garantisce a tutti un certo livello di benessere o comunque la sopravvivenza e fuori popolazioni numerosissime che vivono peggio che non hanno le stesse garanzie le stesse tutele sono più esposti alla fame alla guerra all'insicurezza e perciò desiderano spesso abbandonare i luoghi dove vivono e venire a vivere dentro quel mondo ricco e protetto e chi governa il mondo ricco e protetto deve decidere se lasciare entrare oppure non lasciare entrare e a quali condizioni e così via allora sto parlando di noi oggi o sto parlando dell'impero romano del terzo e quarto secolo uguale quello che ho detto si applica esattamente ogni parola sia la nostra situazione adesso sia la situazione dell'impero romano poi da lì in poi cominciamo le differenze di cui non parlerò perché mi hai esortato a essere breve in questo settore l'Italia che fine ha fatto in questo frangente in questo periodo di cui stiamo parlando l'Italia e se c'è qualcosa con la Basilicata in qualche modo dal quarto secolo all'ottavo no allora questa è precisamente un'epoca in cui l'Italia non ha più senso come espressione geografica o politica l'Italia ha avuto una sua unità per un certo periodo sotto l'impero romano ce n'è voluto noi richiamo sempre l'anacronismo ci dimentichiamo che ancora nel primo secolo avanti Cristo gli abitanti dell'Italia del nord erano galli agli occhi dei romani barbari sottomessi i cui capi si potevano civilizzare diventavano cittadini romani magari c'è qualche caso si tingevano i capelli di nero per non far vedere che erano troppo biondi e quindi selvaggi ma soltanto nel corso del primo secolo avanti Cristo la Gallia Cisalpina ha avuto la cittadinanza romana e anche allora anche al tempo di Cesare di Augusto quando uno arrivava nella pianura padana e arrivava ai piedi delle Alpi aveva la sensazione che lì finiva l'Italia l'intero massiccio alpino non era già più Italia come non era Italia la Sicilia che infatti i romani avevano trattato come una provincia con le stesse regole che applicavano alle province conquistate magari in Africa oppure in Medio Oriente o così via poi col tempo per un po' sotto l'impero romano l'Italia nel suo insieme assume un'identità legata esclusivamente al fatto che il governo la vuole privilegiare tutti gli italici hanno la cittadinanza romana e l'Italia è gestita con dei privilegi fiscali che non spettano al resto dell'impero ma già nel quarto secolo questi privilegi dell'Italia appaiono ingiustificati vengono aboliti e l'Italia viene considerata dagli imperatori che non stanno più in Italia come un territorio dell'impero come tutti gli altri con le invasioni barbariche si sbriciola si sbriciola perché l'ultima invasione grande quella dei Longobardi come vi dicevo i Longobardi progressivamente conquistano quasi tutta l'Italia tranne Roma non la prendono mai tranne Napoli non la prendono mai tranne la Sardegna la Corsica la Sicilia non le prendono mai tranne l'estremo sud della Calabria e il Salento quelli non li prendono la Basilicata si se Dio vuole la Basilicata fa parte di quel grosso pezzo prevalente d'Italia che è Longobarda tanto che quando l'impero bizantino a un certo punto riconquista un pezzo di Calabria e di Basilicata e ci stabilisce una sua provincia questa provincia le province dell'impero bizantino si chiamavano Temi e quella che viene costituita dopo questa riconquista siamo nel decimo secolo mi pare si chiama il tema dei Longobardi perché gli abitanti che i bizantini hanno trovato conquistando questi luoghi sono Longobardi essere Longobardi vuol dire che la popolazione locale romana col tempo si è fatta Longobarda perché una delle cose che si imparano appunto con la storia è che le identità etniche si possono acquisire molto facilmente se tu cominci a seguire certe regole matrimoniali che sono tipiche dei Longobardi i tuoi figli saranno Longobardi non ci vuole niente quindi effettivamente nell'Italia di quell'epoca c'è un grosso pezzo che è Longobardo però ci sono altri pezzi che sono bizantini altri pezzi occupati poi dagli arabi come la Sicilia e quindi in quell'epoca lì effettivamente l'Italia come espressione non ha molto senso ecco quindi la notizia è che siccome come è noto Lombardia viene da Longobardia siete tutti Lombardi mi spiace dirlo ma è così anche a me che sono piemantese prendete questa notizia anche noi siamo Lombardi però credo che dobbiamo no ma guarda sto scherzando perché sembra così lontano e poi appunto come dire Manzoni ci ha abituato a pensare ai Longobardi alti e biondi ma non era così nei secoli a cavallo dell'anno 1000 gli abitanti dell'Italia tranne dove i Longobardi non sono mai arrivati si considerano Longobardi e sono chiamati Longobardi dagli altri va bene allora noi ringraziamo il professor Alessandro Barbero vorrei che gli facessi tutti quanti un applauso ancora grazie io allora abbiamo soddisfatto una parte delle domande naturalmente ce ne sarebbero tantissime da fare altre però va bene così per una parte della lezione ho pensato che stesse parlando dei tempi di oggi e questa cosa mi era attristato un po' devo dire la verità io vi do l'appuntamento alla prossima lezione di storia che esiterà il 23 febbraio con il professor Franco Farinelli e il tema è ai confini della terra da Colombo a Google e intanto vi ricordo che il professor Barbero vi aspetterà all'ingresso per autografarvi le copie se vorrete grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti